Le notizie del TG Ora. I carabinieri della stazione di Bosco Reale, provincia di Napoli, insieme ai colleghi di Angri e dei nuclei artificieri di Napoli e Caserta, hanno arrestato per detenzione di materiale esplosivo, di munizionamento e di stupefacente ai fini di spaccio un cinquantenne già noto alle forze dell'ordine. La perquisizione nel suo domicilio ha portato a rinvenire, sotterrate vicino alla base di un gazebo in giardino, 20 cartucce di vario calibro chiuse in più involucri. Estendendo le ricerche nel cassetto di un mobile da esterno, i militari hanno trovato 19 petardi classificati dagli artificieri materiale esplosivo nonché l'occorrente per fabbricare ordini artigianali, 72 inneschi, 640 grammi di polvere pirica e 14 involucri per bombe carta. In un altro terreno, anche questo nella disponibilità del cinquantenne, sono state scoperte due piante di cannabis ben curate, nascoste tra la vegetazione. Nel buste di plastica per il sottovuoto sporche di marijuana. I carabinieri della stazione di Portici in provincia di Napoli hanno arrestato un 52enne del luogo che aveva appena aggredito la moglie di 46 anni. All'arrivo dei militari in casa, l'uomo si è rifiutato di fornire le generalità minacciando un carabiniere e aggredendone un altro che ha riportato lievi escorazioni. La donna ha quindi denunciato di essere stata picchiata dal marito. I medici le hanno riscontrato escoriazioni guaribili in tre giorni. L'uomo è in attesa del processo con rito direttissimo. Tenta di essorcere denaro a un connazionale marocchino e non è la prima volta, ma in questa circostanza il giovane è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Somma Vesuviana. Le minacce stavolta erano per impossessarsi di 20 euro. Il trentenne è stato recluso nel carcere di Poggio Reale a Napoli. Ha rischiato di morire un camionista che si è trovato a percorrere la strada che collega Giffoni-Vallepiana-Monte Corvino-Rovella in provincia di Salerno, mentre sprofondava un pezzo di ponte. Una corsia della strada provinciale 26b si è sgretolata a causa delle forti piogge del fine settimana. Il cedimento al passaggio di un camion che trasportava legna. Per fortuna solo tanta paura e nessuna conseguenza grave per la salute dell'autista alla guida del mezzo. Ha dalle notizie al quotidiano La Città. L'arteria di competenza provinciale presenta numerose buche e avallamenti. Sfugge all'alto dei carabinieri a Torre del Greco, percorre vari chilometri contro mano, provoca un incidente sfrecciando su due ruote nel bel mezzo di una serenata ad una sposa e viene inseguito a piedi e poi arrestato. Un 39enne già conosciuto alle forze dell'ordine ha seminato il panico ieri sera in città. L'uomo era a bordo del suo scooter intorno alle 20 sul viale Carlo Alberto dalla Chiesa, quanto alla vista dei militari. Ha invertito il senso di marcia e ha iniziato a sfuggire in senso vietato. Un operaio originario di Poggio Marino in provincia di Napoli è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni dopo essere rimasto folgorato da un cavo dell'alta tensione mentre si trovava sul luogo di lavoro della sua ditta in un cantiere nel Foggiano. L'uomo, come riferisce il fatto vesudiano, ha riportato lezioni profonde dovute alla forte scarica elettrica che gli ha trapassato il corpo. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi e appuntamento al prossimo TG.